Buongiorno Elvis. Buongiorno, grazie, grazie. Come è diventato famoso? Voglio incidere un LP per la mia madre e dopo sono diventato famoso. Ah, molto bene. Sì, sì, grazie. Sei un cantante e un attore? Sì, sì. È fantastico. Sì, sì, grazie. Che cosa il tuo più grande desidera? Il mio più grande desidera è pace in mondo. Grazie, grazie. Molto bene. Elvis, tu è morte. Quando moriva? Credo era verso l'anno 1977. E adesso sei qui? In inferno? Sì, sì, grazie. Senta la mancanza della tua famiglia. Sì, sento la mancanza della mia famiglia. Grazie. Grazie. Ci lo facciamo tutti, ma dobbiamo finire l'intervista. Grazie Elvis. Sì, sì, grazie. Quanto è piatto il bar? Dicino... Dicinove e mezzo, ciao. Eh, grazie, grazie. Sì. Sì. Grazie. Sì. Grazie.